oh però falli lunghi, non li fare così, falli lunghi questo qua dai niente arriviamo dammi a me, dammi a me basta, basta vai a tagliare, vai a tagliare ah, ok dai vai su dai vai su a tagliare vai su è bellissimo 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 no 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 la chiude fai avanti non si ormai ti ho no vai e mandi così vai vai lo togli mi no no tu si spacchi la lana da sotto la vai da sotto bolla sempre da sotto no 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 bellissimo no no ma spegnela perché consuma un sacco di misure mi chiede veramente poco no 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 no